Quindi, se mi vuoi raccontare sostanzialmente quello che è successo questa mattina. No, cosa è successo stamattina? Stamattina, verso le 8.15, sono arrivati io per converarci e dopo vari tentativi, diciamo una buona mezz'oretta, sono riuscita ad entrare. Ci sono stati qualche tasseruglio con qualche ragazzo dentro, quindi un ragazzo è stato picchiato, anche più di uno. E uno di loro è stato anche sbattuto contro una porta a vetri, quindi si è spaccato il naso. Ci hanno fatto tutti siedere per la terra. Quanti eravate dentro? Eravamo 22, 25. Io personalmente mi sono persa la maggior parte delle scene perché sono andata ad assistere a una ragazza che aveva delle crisi epilettiche e quindi sono stata con lei in ospedale. Come sta? La ragazza sta bene, si è solo spaventata dai rumori, dal casino che c'era e quindi la paura, lo spavento gli ha provocato questa crisi, ma adesso sta bene. Tutto a posto infatti sono l'unica che adesso è riuscita. Degli altri ragazzi so che adesso sono in casermo per accertamenti e denunce. Non so bene le dinamiche che si sono sosseguite da quel momento. E poi so che eravamo tutti riusciti a terra.